Ciao a tutti, dopo le varie prove oggi grazie ai vostri consigli ho deciso di riprovare a fare il pane con il bicarbonato e con l'aggiunta di un goccio di limone, iniziamo, in una ciotola mettiamo la farina, poi aggiungiamo un cucchiaino di bicarbonato, il sale e un cucchiaino di zucchero, ora mettiamo l'acqua in cui ho messo un cucchiaino di limone e un cucchiaino d'olio e a questo punto posso cominciare ad impastare, ho acceso il forno prima di iniziare a impastare quindi 10-12 minuti fa e l'ho messo a 190 gradi in modalità statica, ho lavorato per bene l'impasto, come vedete non si attacca alle mani o altro, adesso faccio un attimo una pallina e lo metto momentaneamente qui, ora metto un goccio d'olio, c'è bisogno neanche del pennellino, ci metto sopra il panetto, ci faccio un taglietto a croce con il coltello e vado ad infornare, dopo 40 minuti ecco il risultato, l'ho fatto stare per 40 minuti a 190 gradi in forno statico al centro del forno, poi ho spento il forno e con lo sportello semi aperto l'ho lasciato per un'altra decina di minuti, ora lo faccio raffreddare un po' poi lo taglio e lo assaggio con voi, avrei dovuto farlo raffreddare un altro po' ma ho voglia di verificare, questo è il risultato, ne assaggio un pezzetto con voi, non vi aspettate il classico pane ma è comunque molto buono, fatelo e fatemi sapere come vi è venuto, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti, io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi come al solito vi auguro buon appetito!